in questa comunissima strada due sconosciuti homer e marge simpson si stabilirono per metter su famiglia arrivò per primo baby bar poi lisa simpson infine maghi nessuno ci aveva detto quanto fosse difficile allevare i figli per poco non mi spinsero all'alcol poi scoprimo che potevamo parcheggiarli davanti alla tv grazie